Il mio voto è 7 Ho dato questo voto perché il film mi è piaciuto Il regista è Ron Howard La regia è buona e il regista è bravo L'attore è Jim Carrey Bravo attore Di genere per famiglie La durata è 1 ore e 50 minuti Il tema principale è Welcome Christmas Scritto da Dier Seuss La data di uscita in Italia è il 7 dicembre del 2000 Premi Oscar al miglior trucco e acconciatura Saluto Kevin, Gigi, Michele Tregigliani, Fabi J, Picchiatore, Etelefain122, Alessandro Bidone, MrBikeTV, il canale PNC, Rentboy, Henry, ragazza di Henry, Nico Rota, Fabio Guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram Arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto Grazie a tutti Grazie a tutti